Qualche settimana fa ho guardato in faccia la realtà. Fare le scale stava diventando un serio problema. È stato allora che mia moglie si è decisa ed ha chiamato Acorn Montascale. Avrei dovuto farlo prima, il consulente infatti è arrivato velocemente. L'installatore è stato fantastico. Ha eseguito un montaggio semplice, veloce ma soprattutto pulito. Inoltre, con pazienza e chiarezza, ci ha spiegato il corretto funzionamento della macchina. Ora posso nuovamente vivere la mia casa in piena serenità e libertà. Posso anche riscoprire vecchie emozioni e condividerle con il mio nipotino. È una cosa meravigliosa poter passare il mio tempo con lui e raccontargli i miei momenti di gloria. Acorn Montascale è stata una scoperta preziosa. Grazie ad Acorn sono tornato alla vita di prima, senza dover cambiare tutto nella mia casa. Risolleva la tua vita con un Montascale. Prenota ora una consulenza gratuita telefonando al numero 800 20 10 50.